La località turistica del Goriziano vuole diventare la porta d'accesso al territorio circostante in primis per Aquileia e la Laguna. Udine al terzo posto in Italia per numero di trapianti di cuore, 27 lo scorso anno, nel futuro il tentativo di far ripartire un organo fermo. E' pronto il risveglio di Udine con l'apertura del Faris Film, la serata evento del Ceghedaccio e lo street food. Il gruppo bianconero si compatta in vista del Crotone nel pomeriggio, l'ultima seduta completa per valutare l'11 di domenica. Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con il notiziario dell'ora di pranzo di Udinews TV. Questi nostri titoli, fra le varie notizie che affronteremo in questa edizione, ma parliamo anche di natura e lo faremo insieme al geologo Andrea Mocchiuti. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Dopo però avremo il consueto spazio dedicato all'approfondimento. Prima cominciamo con le notizie di giornata. Grado non è solo spiaggia e questo è il messaggio delle iniziative ideate e presentate oggi dal consorzio Grado Turismo, basate su una stretta collaborazione con Aquilei e su una serie di attività ed escursioni nella laguna e nel circondario. Ne abbiamo parlato con il presidente di Promoturismo FWG, Marco Tullio Petrangelo. Grado non è solo spiaggia, questo è il messaggio della presentazione di oggi? Sì, Grado ha un mix di attrazioni turistiche che chiaramente partendo dalla spiaggia, la storia, l'inogastronomia, la natura, il cicloturismo, quindi è un compendio di tutto quel mix di prodotto turistico che noi stiamo cercando in questi anni di riuscire a mettere a punto e a poter vendere nei mercati dove il turismo si compra. Grado è perfetta sotto il profilo della produzione dei prodotti. In base ai vostri dati, tra l'altro, Grado ha avuto una crescita notevole sul fronte degli arrivi delle presenti turistiche. Sì, Grado è stata un po' la regina delle performance degli ultimi due anni. Questo dovuto a un rilancio che c'è stato delle attività associative, sia per quanto riguarda la Grado in rete, la struttura di rete, e per quanto riguarda il rilancio del consorzio che chiaramente portano il prodotto gradese sui mercati che sono i posti dove il turismo si compra. Queste allora le iniziative per Grado, per la stagione turistica di Grado, ma maggiori approfondimenti li daremo questa sera all'interno del nostro notiziario. Adesso passiamo alla cronaca. Risultavano nullatenenti in Italia e per questo beneficiavano di un alloggio popolare pagando un canone molto basso, ma in Slovenia possedevano beni per 260 mila euro. Per questo motivo due donne, madre e figlia di 66 e 27 anni, sono state denunciate dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza. La finta condizione di povertà ha consentito alle due donne di beneficiare di un canone di locazione agevolato di 40 euro anziché di 400 e di percepire dal comune di Trieste benefici economici non spettanti per alcune migliaia di euro. Il capo famiglia, che ha sottoscritto le dichiarazioni per la richiesta dell'ISEE, nascondendo l'esistenza delle cospicue disponibilità bancarie in territorio sloveno, dovrà rispondere di indebita percezione di erogazione ai danni dello Stato. A madre e figlia sono state contestate anche violazioni amministrative. E sempre per la cronaca, un furto tra martedì e mercoledì ai danni della luce SRL, nota azienda della zona industriale udinese in via Zanussi. I soliti ignoti si sono introdotti con il favore delle tenebre all'interno dell'azienda, manomettendo una finestra che dà accesso agli uffici amministrativi. Una volta dentro, i malviventi hanno scardinato una cassetta di sicurezza, depredando l'intero contenuto, due carnet di assegni, documentazione bancaria, carte di credito e denaro in contante. Il danno complessivo si aggira intorno ai 5.000 euro, sul colpo indagano i carabinieri della compagnia di Udine. E adesso vi proponiamo, come avete sentito dai nostri titoli, un viaggio alla scoperta dell'eccellenza della cardiochirurgia udinese al Santa Maria della Misericordia. Il programma di trapianti cardiaci è una realtà dal 1985. Da allora ne sono stati realizzati ben 620, con risultati che posizionano l'azienda sanitaria udinese ai vertici nazionali, sia per numero che per qualità. L'anno scorso ne sono stati effettuati 27. Uno degli obiettivi della futura ricerca è la possibilità di utilizzare degli organi provenienti da persone decedute per arresto cardiaco. Sentiamo l'intervista al professor Ugolino Livi. Su fonte di trapianti perseguiremo la ricerca sulla preservazione ex vivo dell'organo, perché questo ci permette di ampliare la fonte di donazione e quindi utilizzare anche donatori che eventualmente con la forma standard di preservazione non potrebbero essere adottati. Sicuramente sul fronte della prevenzione del rigetto, la nuova diagnostica molecolare può portare dei contributi importantissimi e anche i nuovi farmaci che si stanno affermando sul mercato avranno un impatto non indifferente nel miglioramento della qualità della vita e soprattutto anche dei risultati. Infine, in prospettiva prossima, e noi stiamo lavorando insieme ad altre università, soprattutto straniere, in Australia e Stati Uniti, la possibilità di ricorrere a donatori che vengono identificati non più con criteri neurologici, cioè la cosiddetta morte cerebrale, ma con criteri cardiaci, cioè donatori che vengono identificati come tali dopo un arresto cardiaco. Stiamo esplorando campi nuovi del trapianto, tra cui anche il trapianto fatto, eseguito in una popolazione anziana, nei pazienti sopra 70 anni, che fino adesso, fino a poco tempo fa, era una popolazione che era in qualche maniera esclusa da questa possibilità di trattamento. Stiamo estendendo le indicazioni del trapianto anche a patologie che una volta erano precuse da questo trattamento, come ad esempio alcune malattie sistemiche come l'amiloidosi, di cui siamo quasi gli unici in Italia a portare avanti un programma di questo tipo. Donne al lavoro, più dinamiche degli uomini, il tasso di occupazione è di 10 punti percentuali più alto rispetto al dato nazionale, parliamo ovviamente della nostra regione, ancora grosse differenze però sul part-time, sul congedo parentale. Il primato di occupate nel settore della sanità. Un quadro generale, quello dell'occupazione in Friuli Venezia Giulia, che presenta un andamento in crescita, raggiungendo nel 2017 un tasso del 58,4% a fronte di un dato nazionale che si è fermato al 48,9%. Nel contempo un'analisi più approfondita disegna uno scenario dove la performance migliore viene conseguita dal territorio triestino, in un contesto regionale all'interno del quale permangono le peculiarità che connotano specificatamente il lavoro femminile come il part-time non volontario e la difficoltà, specialmente nella fascia dai 30 ai 40 anni, di conciliare i tempi tra famiglia e lavoro. Vediamo numeri in crescita per quanto riguarda il lavoro femminile, tanto nel settore privato quanto anche nel lavoro autonomo abbiamo dati molto interessanti, anzi possiamo dire che forse l'occupazione femminile cresce in modo ancora più dinamico rispetto alla crescita sull'occupazione maschile. Quindi un quadro positivo che pone la nostra regione sicuramente tra le regioni migliori guardando le dinamiche nazionali. Per quel che riguarda i settori in cui l'occupazione femminile emerge maggiormente il primato è conseguito dalla sanità e dall'area dei servizi alla persona seguiti dal commercio e dai servizi alle imprese. Sul ricorso al part-time l'incidenza di genere registra una marcata differenza. I maschi al 9,7%, le donne al 44%. Stesso trend per i congedi parentali, solo il 4,3% degli uomini ha chiesto un'aspettativa per stare con i figli, mentre per le donne il dato sale al 41,2%. Abbiamo evidenziato che c'è ancora un permanere di differenziali salariali che sono legati a quella che è stata la dinamica storica delle retribuzioni delle donne. Quindi questo è un processo lungo che si è sedimentato nel tempo ed è anche, resta ancora difficile da correggere. Adesso veniamo ai prossimi giorni che saranno densi di appuntamenti per la nostra città. C'è un vero e proprio risveglio primaverile che parte con l'inaugurazione quest'oggi del Far East Film Festival che prosegue con il ceghedaccio e con lo street food track. C'è la nostra Luciana Idelfonso che seguirà questa sera anche per noi l'apertura proprio del Far East in centro a Udile dove c'è molta attesa anche per l'inaugurazione del nuovo villaggio in Via Mercato Vecchio di quella che sta chiamata la Chinatown di Via Mercato Vecchio. A te Luciana. Buongiorno Valentina, a te e ai nostri telespettatori. Ci troviamo in Via Mercato Vecchio che questa sera si tingerà di rosso insieme alla loggia del Lionello per uno spettacolo che darà il benvenuto al Far East Film Festival che proprio questa sera dà il Via la sua ventesima edizione. Come vediamo qui c'è questo mercatino dedicato all'Asia che insomma le ultime fasi di allestimento perché si inaugurerà questo pomeriggio alle 21 insieme al resto dello spettacolo previsto un Far East dove ci sarà spazio anche per il food, il food quello asiatico soprattutto giapponese con la possibilità di scoprire i noodles e di testarli direttamente qua in Friuli Venezia Giulia. Di street food però si parlerà anche in piazza primo maggio con l'inaugurazione del festival prevista per le 17 che proporrà tantissime proposte gourmet di strada. Un venerdì assolutamente pieno di sorprese quello di oggi perché poi stasera alle 20 inizierà anche la 25esima edizione del Ceghedaccio previsto la fiera di Udine con spettacolo pirotecnico alle 21 e 25 per festeggiare quindi questi primi 25 anni di attività della grande festa dedicata alla disco music. Grazie Luciana, fra poco ci sposteremo anche all'interno della Dacia Arena ma prima l'approfondimento di oggi che apriamo con una notizia ovvero con il soccorso da parte dei vigili del fuoco di Pordenone sul Noncello per un addestramento, sono usciti questa mattina per un addestramento di mantenimento delle abilità nautiche di soccorso acquati che hanno avuto la possibilità di soccorrere un volatile malconcio caduto in acqua dopo un'aggressione da parte di un rapace ed è arrivato anche dal comune di Pordenone la richiesta di un sopralluogo per verificare un tratto dell'alveo fluviale ostacolato da un grosso albero. Quindi un intervento dei vigili del fuoco nei confronti questa volta di un animale come spesso tra l'altro succede che ci dà l'occasione per anticipare l'argomento dell'approfondimento di quest'oggi che faremo con Andrea Mocchiuti della riserva del lago di Cornino. Perché questa domenica c'è una giornata particolare, di cosa si tratta? Sì, è la giornata della terra, una giornata in cui nel mondo tutti ci ricordiamo del nostro pianeta e cerchiamo di fare in modo di preservarlo. Ci sono tantissime iniziative in Italia, questa da noi in Friuli, e circa un miliardo di persone domenica cercherà in qualche modo di farsi sentire per preservare le riserve che abbiamo e le parti naturali che ancora abbiamo che sono molto importanti. Ecco, giornata della terra, lei che è un geologo potrà spiegare adeguatamente a chi vuole scoprire quali sono i segreti del nostro pianeta anche per appunto festeggiare questa giornata. Sì, è vero, nella giornata di domenica appunto alla riserva regionale del lago di Cornino alle 11 inizieremo con una rassegna relativa agli anfibi e i rettili della riserva. Poi nel pomeriggio alle 2 e mezza ci sarà una parte dedicata proprio alla geologia del lago di Cornino con un'escursione attorno al lago e fino al tagliamento. E poi la sera alle 4 e mezza invece un altro incontro relativo alle piante e all'acqua del lago. Ecco, voi della riserva naturale, voi operatori della riserva, siete mobilitati durante tutto l'anno anche per sensibilizzare le persone su questi temi e per far conoscere anche il nostro ambiente. Sì, sì, la riserva è aperta, moltissime sono le scolaresche, anche l'evento di domenica è assolutamente gratuito, è aperto a tutti e serve proprio a farci capire l'importanza degli aspetti naturalistici che abbiamo in regione e che abbiamo in Italia e soprattutto l'importanza di preservarli per noi e per le generazioni future. Quindi capire e saper poi utilizzare bene le nostre risorse, ad esempio attraverso le energie rinnovabili piuttosto che invece attraverso appunto la fruizione di queste zone assolutamente di pregio. Ecco, la giornata internazionale della terra, intanto stiamo vedendo alcune immagini della riserva, vuole appunto sensibilizzare su questi grandi temi, quindi l'energia rinnovabile, la cura del territorio, non sprecare le nostre risorse, da che cosa si può partire per avere un approccio green nella nostra quotidianità, nelle piccole cose? Beh, anche dall'acqua, stiamo vedendo il lago, l'acqua è un bene molto prezioso, in Friuli ne abbiamo molta o crediamo di averne molta, in realtà va preservata, attenzione... Perché piove spesso. Piove spesso, è vero, però quest'estate poi vedremo bene che le cose cambiano, le falde vanno gestite nella maniera adeguata, non bisogna sprecare l'acqua a uso potabile, va usata esclusivamente ad uso potabile, è possibile ad esempio raccogliere le acque di pioggia in cisterne per bagnare il giardino, anziché usare quelle dei riservi idropotabili, è possibile fare in tanti modi affinché l'acqua non venga sprecata, in molti paesi del mondo l'acqua manca di un bene primario, noi ne abbiamo ma non abbiamo nessun diritto di sprecarla, anzi godiamo e utilizziamola al meglio. Il lago di Cornino vive proprio grazie a queste sorgenti, ci sono sorgenti che arrivano dalla montagna con percorsi di diversi giorni e l'acqua viene a giorno proprio nel lago di Cornino che è di fatto una perla incastonata nelle prealpi, ricchissimo poi di fauna e di flora legate proprio al fatto di avere un'acqua pura e limpida tutto l'anno. Ecco, domenica che cosa si potrà vedere? Qui vediamo i grifoni credo, no? Sì, nella riserva ci sono i grifoni che fanno un po' da controllo di tutto il territorio delle prealpi e domenica si potranno vedere un sacco di animali che sono sempre presenti nella riserva, più degli animali che sono liberi sempre nella riserva e poi muovendosi con l'escursione geologica potremmo arrivare fino al gritto del tagliamento, vedere le rocce, capire come si è formato il lago e capire quali sono proprio gli aspetti che vanno preservati e perché come sempre conoscere significa poi poter apprezzare e poter anche proteggere nel modo migliore. Qual è la particolarità geologica di questa riserva? È il fatto che un lago che si è formato a causa di una vecchia frana ed è rimasto proprio incastonato tra la parete rocciosa e il fiume tagliamento che scorre poco distante. È diventata un'area di rifugio per moltissimi uccelli, per moltissimi anfibi e la vogliamo conservare proprio in questa direzione e fare in modo che poi le persone la possano conoscere e fruire di quest'area senza per forza comunque comprometterla. Quindi mobilitiamoci per la giornata mondiale della terra, domenica 22 aprile, questi eventi alla riserva naturale del lago di Cornino, grazie ad Andrea Mocchiuti, poi ce ne saranno anche altri, il mercoledì 25 aprile ad esempio un altro evento sempre riguardante il Friuli Collinare quindi date un'occhiata magari al sito internet e informatevi alla pagina Facebook per non perdervi questi appuntamenti. Noi adesso voltiamo pagina, parliamo di sport, ci colleghiamo con Maurizio Ferrari dalla Dacia Arena per tutte le ultime informazioni relative all'Udinese e alla sfida che l'aspetta contro il Crotone. Buongiorno Valentina, in questo venerdì l'Udinese si allenerà al pomeriggio alle ore 15, tra l'altro seduta che si terrà sul campo numero 4 del centro sportivo Dino Bruseschi e dunque lontana da occhi indiscreti per prepararsi al meglio alla gara contro il Crotone. Allora, chiaramente sono ancora caldissime le parole di Gino Pozzo che ha sottolineato l'importanza del momento, la gara chiave proprio contro la formazione di Zenga. Vi riproponiamo un piccolo estratto proprio per farvi capire anche quello che è il clima di grande concentrazione e di grande voglia di uscire dalla crisi che si respira qui alla Dacia Arena. A questo punto nessuno si può nascondere e per cui dobbiamo affrontare con serietà questo momento. I giocatori hanno dimostrato che sono giocatori che possono dare dei risultati importanti, però non è che ci possiamo solo basare su quanto abbiamo fatto i primi due mesi con Oddo. Adesso dobbiamo prendere coscienza che tutti insieme dobbiamo venire fuori, per cui grande attenzione e la cura di tutti i dettagli e la consapevolezza che da questa situazione qua ne veniamo fuori tutti quanti insieme. Ha parlato alla squadra in queste ore? Sì, ho incontrato l'allenatore, ho incontrato la squadra, d'altronde con l'allenatore siamo stati sempre in contatto anche durante tutto questo periodo, però alla squadra abbiamo condiviso, abbiamo fatto un richiamo a quelli che è l'importanza del momento, il fatto che da queste situazioni qua ne usciamo assumendoci ognuno le proprie responsabilità e prendendo soprattutto coscienza che dipende da noi. Non solo questo però nella mattinata di avvicinamento proprio alla seduta pomeridiana, perché è chiaramente un momento in cui tutti vogliono stringersi attorno all'udinese. Non sorprende che anche questa mattina, in quello che è stato un incontro, un gemellaggio tenuto nella sede delle Frecce Tricolore con i ragazzi da Faisport, si sia parlato anche di Udinese con la volontà, la vicinanza da parte anche dei giovani campioni che si destreggono tra tanti impegni sociali di voler ovviamente essere vicini alla squadra. Dunque questa sera vi proporremo anche un servizio su questo tema, ci focalizzeremo ovviamente sulla prossima avversaria il Crotone e su quello che si è svolto nel pomeriggio, ovviamente per cercare di capire anche un po' quello che potrebbe essere l'undici che come tutti hanno sottolineato deve assolutamente riportare punti, deve assolutamente riportare la vittoria per i colori bianconeri. È tutto per il momento qui dalla Dacia Arena, ti restituisco la linea. Grazie Maurizio Ferrari, allora l'informazione ritorna alle ore 19, vi ringraziamo per averci seguito, buona giornata insieme a Udinese TV.